Ciao a tutti a Stelleweb, qui è Exyncostellar che parla e oggi siamo qui con un video aggiornamento di... anzi, più che un video aggiornamento, è un video di scuse. E siccome è un video di scuse, preferisco farlo questo video facendomi vedere proprio in faccia, cioè guardandovi dritto negli occhi. Ciao! Sì, questa è la mia faccia, la faccia del vostro caro Exyncostellar. E oggi sono qui per farvi questo video di scuse, perché adesso vi spiego perché. Allora, come potete vedere il canale è inattivo da 4 settimane, anzi forse sarebbero di meno se tipo non mi avrebbero buttato giù il video della top 30 delle opening degli anime per copyright, cosa che ricaricherò più avanti se ci riesco, togliendo il copyright, se ci riesco ovviamente. E niente, magari voi vi aspettereste un video dove direi sono tornato da oggi in poi e riesco a fare i video, ma purtroppo no. Non chiuderò il canale, vi sto dicendo, semplicemente mi prendo un po' di pausa, perché con il trasferimento che ho fatto da Reina a Lucian io devo fare due ore di viaggio per andare a scuola e due ore per tornare e non ce la faccio. Cioè, sprecare quattro ore al giorno stando lì nel treno o nell'autobus a far nulla, proprio mi ha fatto passare la voglia di registrare per un po'. In più, questo martedì, giorno in cui spero di caricare il video, mi sono già messo d'accordo con me stesso di caricarlo martedì, quindi finisco di registrare e metto subito a editare il video, Io tanto non devo fare editing, chissà che devo giusto sistemare l'audio, sincronizzare la voce, perché ovviamente non utilizzo il microfono della videocamera, ma utilizzo ovviamente Audacity, oh mio Dio, le cose pro di X5. E sì, prossima settimana parto in Italia, sto in vacanza lì per 12 giorni, per chi magari, boh, per chi magari abita a Gabiccia e Mare o a Cattolica, sappiate che io starò a Gabiccia e Mare, che vuole venire e venga, sto in 12 giorni, amen, bordello, nulla. Spero che con questi 12 giorni mi ritorni la voglia di registrare, perché faccio l'unica, in teoria settimana prossima, l'ultima settimana di scuola proprio ho finito tutto, però siccome dovevo andare al campeggio e sono finiti i posti, avevamo già prenotato il biglietto, e ho detto, vabbè, siccome non ci rimborsano vado comunque lì, mi sto una settimana con la mia famiglia che mi ha lasciato là, e amen, nulla. E quindi sì, sto lunedì l'ultimo giorno, quindi ultime quattro ore sprecate, poi basta. E niente, non farò, anche quando ritorno non vi, non vi prometto che usciranno subito dei video, e perché, sto guardando di qui perché c'è il desktop, qui, proprio qua. Potrei anche guardare di qua perché qua ho il portatile, lì ho il desktop e qua, o voi. Anzi, ho la telecamera, ma è come se stesse parlando voi ai miei cari iscritti, che siete dei bastardi perché restate comunque sempre fermi a 159 da tipo quattro settimane senza caricare video, ancora nessuno si è disiscritto, una cosa, wow, mi fa piacere. Probabilmente tanta gente si disiscriverà dopo sto video perché altri 12 giorni senza video, e poi dopo forse qualche giorno in più perché non sono sicuro che mi torni la voglia di disiscrivere con sta vacanza. E non peccato perché ho delle idee in mente, cioè avevo in mente di finire Pokémon Snakewood, però tipo quando avevo un piccolo momento di volete registrare, ho avuto dei problemi a registrare e ho detto sai che c'è? Registrano 8 giorni e quel giorno non è mai arrivato. Quindi finisco Pokémon Snakewood, comincio un'altra Akrom dopo, che mi ha fatto vedere Silver Griae. Mi ha fatto vedere sta Akrom, è bellissima, e spero davvero di riuscire a portarvela. Insieme a un'altra roba riguardante Esword. No, non vi preoccupate, non sarà un gameplay di Esword, nel caso magari a qualcuno non piacesse, sarà semplicemente io che spiego la storia di Esword. Ovviamente in quel giorno cerco di non far uscire soltanto quel video, perché così chi non lo vuole vedere ha altro da vedersi, e chi lo vuole vedere ha quello da vedersi più qualcos'altro. Quindi, sì, spero che mi torni a voler registrare per fare queste cose. E niente, questo appunto, un video di scuse perché smetteremo di fare il video per un altro po'. Spero che possiate capire perché due ore lì a far niente, perché manco dire che mi porto dietro il portatile e edito lì, perché il mio portatile per qualche strano motivo non regge Camtasia o Sony Vegas, nessuno dei due. E... Piccola chicca che vi dico, io non ho una USB, quindi sì. Non ho una USB, quindi non posso prendere le robe da qui e spostarle da lì. Se devo fare questa cosa devo tipo passare per internet, caricare un file, proprio passarvi il link da qualche parte, tipo su uno dei miei account fake di... Cioè su uno degli account che utilizzo per ruolare su Facebook, me lo mando lì in chat, proprio apro il portatile, prendo il link, scarico e via. Quindi niente, questo non è un addio, spero davvero che sia un rivederci e niente. Chi fa battute sulla mia faccia verrà bannato. Sì, sì. Così, a caso. A caso. Kingdom Hearts nel cuore, a caso. Kingdom Hearts nel cuore. Vabbè, noi ci vediamo con un prossimo video tra... Non dovrei finire con questa ending, noi ci vediamo con un prossimo video, no. Questo non arrivederci, bye bye.